Vinificare in vasche di pietra. Non si tratta di un'innovazione ma di una storia che ci riporta duemila anni fa e precisamente a Pietranico. Oggi, in tempo di biologico, l'azienda Vitivinicola Chiusa Grande presenta i suoi vini naturali. Come Chiusa Grande, quindi come azienda, facevamo già dei vini senza solfiti, però abbiamo voluto approfittare di questo progetto comunitario, misura 1, 2, 4, per avere la possibilità di sviluppare ulteriormente, per esempio di acquisire un'attrezzatura per togliere l'ossigeno dal vino e quindi limitare l'ossidazione che è chiaramente il principale pericolo quando si parla di vini senza solfiti. Un mercato in forte espansione, quello del biologico Labruzzo, si affaccia ancora timidamente nella nuova generazione, ma i segnali che arrivano sono buoni. Negli ultimi anni siamo passati ad una realtà nuova, una realtà che sicuramente ci mette in linea con la maggior parte delle regioni viticole italiane più importanti e poi c'è questa tendenza, quella della produzione sostenibile o biologica o ecocompatibile. Un discorso che parte da iniziative comunitarie, quindi la normativa prevede e prevederà ancora maggiormente nel prossimo piano di sviluppo rurale 2014-2020 iniziative specifiche per ridurre l'inquinamento e per un maggior rispetto ambientale, quindi tendenti a produzione più sostenibili. Infine sulla vinificazione del biologico alcune riflessioni da fare. Meno solfiti creano un vino più salubre, ma per i produttori si tratta di un rischio costante. È questa la grande sfida per chi sceglie di produrre rispettando l'ambiente. È necessario che il produttore attui tutte le tecniche per prevenire l'insorgenza di attacchi fuggini all'interno dei vari appezzamenti di vigneto e poi successivamente prestare attenzione sicuramente anche in tutte le fasi di vinificazione. Chi invece adotta una vitinologia convenzionale sicuramente ha meno problemi, però questo non va a intaccare più che altro il discorso economico. Grazie a tutti.